I rischi vanno identificati e valutati con il loro impatto su tempo, costo, qualità, portata, vantaggi e risorse. Vanno identificate le reazioni adeguate e va suggerita una soluzione per ogni rischio. Ma non finisce qui, i rischi vanno poi gestiti. Il risk management porta a risparmi esponenziali e evitare vere e proprie catastrofi. È fondamentale sia per evitare fallimenti che per garantire i tuoi profitti. L'estensione del risk management, l'emergency management, fa spesso la differenza tra la disfatta e la sopravvivenza, dal volta anche di persone. Purtroppo, tanti sono convinti che l'emergency manager sia semplicemente una specie di funzionario ordinario. Chiunque pensi ciò, non si è mai ritrovato coinvolto in un'emergenza. Ti aiutiamo ad orientarti nelle attività fondamentali per garantire il futuro tu e i tuoi figli, attività che pratichiamo da tanto con competenza e responsabilità. Non è possibile trovare la qualità in un supermarket. Solo un professionista può darti il valore aggiunto che ti farà prevalere sulla concorrenza.